Nella creazione del monte dell'uomo Dio ha posto la prima e universale testimonianza del suo amore e della sua sapienza. Un episodio di vita. Due giovani, meglio dei ragazzotti, provano la droga. I genitori di uno se ne accorge e con dialogo affettuoso e con tante espressioni di convincimento danno fiducia a questo loro figliuolo e questo si allontana da questa situazione della droga. L'altra famiglia, frente allo scherzo, sono prove che i ragazzi devono fare. Mettono sotto gamba il fatto e quel ragazzo diventa un drogato. Allora, questo problema, che cosa ci dice? È il nostro comportamento di fronte al male che c'è nel mondo. Noi cosa generalmente diciamo? Diciamo che se c'è il mondo è perché Dio non si interessa, perché Dio lascia perdere, che Dio lascia correre. E invece la realtà è un'altra, che Dio è disposto a darci tutte le grazie e gli aiuti perché si risolva il problema del male nel mondo, ma vuole che noi ci rimbocchiamo le maniche e ci mettiamo a lavorare. Cioè Dio vuole la nostra realizzazione nel costruire il mondo migliore. Ecco perché ci ha chiamato in vita ed ecco perché ci ha creati come figli suoi, come figli adottivi, in pieno, come Gesù. Allora, di fronte al bene, queste sono le varie posizioni che si incrociano e è necessario allora prendere atto che la creazione venisse da Dio e viene sviluppata ed abbellita dagli uomini. Noi siamo i collaboratori di Dio e dobbiamo dare importanza anche alle piccole cose, agli impegni quotidiani, alla responsabilità nella famiglia, sul posto di lavoro, nella società. Da solo non si fa nulla. È l'uomo che deve fare con l'aiuto di Dio. Nel Vancello leggiamo l'intervento di Gesù per una folla di 5.000 persone che attraversano, da alcuni giorni seguono Gesù e gli apostoli fanno notare a Gesù che sono stanchi e affamati e quindi è la necessità di licenziarlo affinché trovano da mangiare nelle campagne e nelle borgate. Gesù dice date voi stessi da mangiare, non abbiamo nulla. Lì a fianco c'è un ragazzo che tiene cinque pani e due pesci, glieli chiedono e il ragazzo dà il pane. Il ragazzo non sa che Gesù doveva moltiplicare quel pane per sfamare tutta quella folla. aveva quei pani, poteva dire «l'ho comprato con i miei soldi, è mio, mi metto in un angolo e mi sfamo e mangio il frutto del mio lavoro». E invece cessa di essere egoista e dà il pane a Gesù e Gesù compie il miracolo per tutti. Nella realtà del mondo non è che mancano le materie prime, non è che manca il pane, manca la capacità di spezzare il pane affinché tutti gli uomini della terra possano mangiare. Se noi riflettiamo un poco alle situazioni della società moderna vediamo che c'è il trionfalismo dell'egoismo. Noi stiamo bene a casa nostra e gli altri si arrangiano. Questo non è cristianesimo, questo non è il progetto di Dio. Padre Pio è stato il grande uomo della Divina Providenza, non aveva soldi, ma ha creato una città. Come? Involjando gli uomini e invogliando tutti a prestarsi a mettere una piccola pietra per la costruzione della città dell'amore. Grazie a tutti.